Cari ariete, le giornate migliori della settimana sembrano essere quelle di mercoledì e giovedì, quando la luna darà manforte a giove nel portarvi le soddisfazioni che voi desiderate. Proprio in questi due giorni varrebbe la pena fare affidamento su amici, appoggi esterni, sostenitori, fan, che potrebbero aprirvi dei percorsi preferenziali proprio per arrivare ai traguardi che desiderate raggiungere. Da venerdì Marte smette di aiutarvi, ma non è che comincerà a contrastarvi, diciamo solo che potrebbe forse rendere un cicinin più faticosa la quotidianità, ma nulla di grave accadrà, perché avete pur sempre giove, come abbiamo detto anche la settimana scorsa, a vostro favore che porta la fortuna, i successi, i trionfi e anche dei gemellaggi suino-sudombelicali che resteranno scolpiti nella vostra memoria.